Vai! Buonasera a tutti, sono Annalisa Casino dell'associazione Stewardship per la gestione etica delle risorse e oggi mi trovo a Cascina di Ulsa per la presentazione del progetto IFAS Improving Food, Agriculture and Environmental Stewardship un progetto sulla gestione etica della catena territorio, cibo e tavola a prendere parte al nostro progetto sono tutta una serie di realtà che hanno creato con noi una sinergia per appunto integrare le politiche e gli standard di stewardship e per fare in modo che ci sia una custodia attraverso un agreement di land stewardship del territorio sino al consumo e quindi ad una produzione e consumo consapevole dei prodotti questo progetto è stato sviluppato dalla cooperativa etica e stewardship in action ed ha come partner tutta una serie di realtà da Lega Coop, agroalimentare, fedel chimica, sofertilizzanti piuttosto che altro consumo, c'è la cooperativa Latana con la quale abbiamo sviluppato il kit tavola con stewardship che è un kit che appunto serve per sensibilizzare in particolare i bambini nelle lototeche e nelle scuole ad un consumo consapevole sapendo poi come effettivamente viene prodotto un alimento che viene dall'agroalimentare e tutta un'altra serie di realtà e partner che potete trovare sul nostro sito sulla pagina www.stewardship.it oggi ci troviamo qui per appunto spiegare il progetto e per continuare attraverso il focus group che abbiamo coordinato con diversi tavoli di lavoro per fare in modo che ci sia una prosecuzione e quindi una messa in opera effettiva di tutte le realtà che sono coinvolte e per portare avanti proprio il modello di gestione IFES Grazie